...o storico discorso del Duce al forte popolo italiano che combatte e lavora. L'altro giorno, racconto questo aneddoto, poi ascoltiamo gli ascoltatori, mi ferma una signora terrorizzata, ero con il gasparetto, tanto per dire che è contraria della Cegas, mi ferma questa signora impaurita, mi fa mi ha messo le mani addosso, vado là, lo prendo per il bavoro, questo aneddoto, prendo per il bavoro e mi dico, ma cosa fai? Lui mi fa, lei non sa cosa mi ha detto, c'è il tipo, ho detto sono il sindaco, ma questi devono adeguarsi alle nostre leggi. Ho portato il problema in prefettura perché prima o dopo dovremo intervenire. Il prossimo anno, mi anticipo che avremo tutte le rive, metteremo tutte le rive fino a giù, dove c'è adesso l'una parte, e ritorno, metteremo le luci al prossimo. Dopo il discorso, la folla accorre, in un impeto di schietto entusiasmo, a gridargli la sua deluzione. A gridargli la sua deluzione.